Sono 115 in più rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Veneto. Sul territorio regionale si registrano due nuovi decessi. Gli attuali positivi sono 2.984. In isolamento fiduciario si trovano 7.186 persone. Nei reparti di terapia intensiva degli ospedali del Veneto ci sono 21 pazienti ricoverati, 154 invece quelli che si trovano nei reparti di degenza non critici.